Un grosso incendio si è sviluppato tra San Pancrazio e Buccine. Le fiamme si sono avvicinate anche alle zone di Ambra e Badianiano avvolgendo la fitta vegetazione. Sul posto oltre a 20 unità dei vigili del fuoco provenienti da Montevarchi, Arezzo e Bibbiena e vari volontari più altre unità inviate dalle sale operative dell'antincendio boschivo. Sul posto si sono portati anche due mezzi aerei della flotta regionale, un Canadair della flotta nazionale. In tutto sono bruciati 50 ettari di bosco, oliveti e terreno in colto. Il fuoco ha minacciato anche un'abitazione ed alcune autovetture. Non è stato questo però l'unico incendio in provincia di Arezzo in una giornata difficilissima in tutta la regione. I vigili del fuoco di Firenze ed Arezzo sono intervenuti infatti a San Giustino Valdarno per un incendio di vegetazione insieme ad alcuni volontari dell'antincendio boschivo inviate dalle sale operative.